ciao a tutti vi mando questo messaggio perché sono molto contento di essere stato con voi è stata per me una grande esperienza partecipare a questo convegno nazionale non sapevo cosa sarei venuto a fare e quindi non ero preparato a scoprire un gruppo così bello coeso e animato da la voglia di fare meglio credo che la cosa più bella che ci portiamo a casa sia la sensazione di aver investito del tempo ma di aver portato a casa molto di più di quello che abbiamo investito e soprattutto ci ricordiamo abbiamo vissuto sulla nostra pelle il fatto che essere un po fuori dai nostri schemi dall'ordinario dalla vita quotidiana ci aiuta a ricordarci che prenderci del tempo per riflettere raccogliere nuove idee fare nuovi progetti avere nuovi spunti vale tantissimo e assicura il futuro delle nostre realtà che siano studi che siano società che siano aziende e questo approccio portato anche sui nostri clienti farà la differenza io vi farò avere prestissimo mie notizie anche tramite il libro che sto per pubblicare sulla finanza agevolata vi auguro buona domenica e a prestissimo un grazie infinito a simone che ha capito una simmetria ha colto la simmetria tra il mercato e l'offerta la domanda le esigenze delle aziende e l'offerta dei professionisti e ha creato questo team di lavoro per colmare in maniera egregia questo vuoto quindi ci aspetta un futuro di grandissimo lavoro tanto impegno però penso anche grandi soddisfazioni un abbraccio a tutti ciao